Ben ritrovati amici di Telerama e siamo giunti al caldo, all'ennesimo caldo weekend. E che caldo? E che caldo perché l'anticiclone africano continua ad inviare aria calda, anzi la latitudine dell'ondata calda si sta abbassando e quindi l'aria calda si sta schiacciando proprio sulle estreme regioni meridionali con il picco del caldo in quota. Picco del caldo anche da noi? Sì, ma bisogna anche dire che aumenterà un po' l'umidità, quindi non ci sarà un aumento ma non sarà proporzionale all'ondata di caldo in quota. Per farla breve farà comunque caldo, sulle zone costiere ci sarà tanto umidità, sempre tanto sole, sulla Puglia, sulla Basilicata, valori che ancora una volta andranno anche al di sopra dei 40 gradi. Anche picchi di 42, probabilmente anche qualche valore attorno o che si avvicinerà ai 43. Insomma, il grande caldo continuerà e anche poi lo vedremo nella giornata di domenica, non ci saranno variazioni. È tutto amici di Telerama, tutti al mare o sotto i condizionatori. Arrivederci. Grazie.